Il Climax Po ha avuto una lunga storia perché eravamo partiti con l'impostazione di un progetto anni fa, che poi per varie ragioni non era stato preso in considerazione da parte della Commissione Europea. Poi a seguito di una serie di revisioni che si abbiamo fatto e coinvolgimento di numerosi partner, che adesso sono ben 21, siamo riusciti a portare questo progetto all'attenzione della Commissione e a farlo approvare. È un progetto molto grande che prevede nove anni di attività con un finanziamento importante perché sono quasi 20 milioni di euro e le attività sono tante. L'obiettivo del progetto principale è quello di riuscire a sviluppare un sistema di conoscenze riguardo al tema del cambiamento climatico che sia in linea con la strategia nazionale sui cambiamenti climatici e che dia comunque la possibilità a tutti i soggetti coinvolti, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista proprio operativo della gestione della risorsa, a trovare un modus operandi comune per fronteggiare il problema del cambiamento climatico. Grazie a tutti! Grazie!